Cosa ha vissuto questo premio? La dichiarazione? E credo che ci sono diverse aspettazioni per fare un film come Night in My Car E finalmente posso chiederti quanto i fan supportano? A vedere sempre queste barche che arrivano nel Mediterraneo con la conta dei vivi e dei morti e questa volta abbiamo messo la macchina presa dall'altra parte dall'Africa verso l'Europa e abbiamo raccontato il loro viaggio dal loro punto di vista. Cercando di dare forma visiva a tutta una parte di viaggio che di solito non si conosce. Quindi il deserto, la Libia, la barca dal loro punto di vista. Perché cosa stanno facendo a questi rifugiati è illegale. È contro la legge polizia, contro la legge polizia internazionale 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 e quindi